La capacità realizzativa è salita al 40%, però l'opposizione sul tiratore avversario nel secondo tempo è qualcosina, bisognerebbe riguardarci forse. Beh, però intanto bisogna anche dire a questi ragazzi bravi, oltretutto oggi non era semplice anche dal punto di vista psicologico, oggi ho aperto tre testate sportivi, ho letto esame di riparazione per il Grifo, insomma dopo la seconda giornata mi sembra un po' presto a sentire queste cose, comunque sia una squadra così giovane ha reagito bene apposta anche a questa richiesta e noi siamo contenti di quello che ha fatto il Perugia. Esidio Calloni era un centravanti che aveva tutto nel centravanti però non riusciva a segnare, adesso quella figurina la possiamo chiudere dentro l'album ormai? L'ho detto prima, insomma, il calcio è così, la settimana scorsa tre occasioni in una partita non mi è riuscita a buttarla dentro, oggi dopo due minuti è andata bene, è così, insomma, non mi sono buttato giù in questa settimana e non mi esalterò nella prossima, resterò, farò il mio, quello che devo fare nell'allenamento, sempre il meglio per cercare di migliorare ogni giorno e dare un contributo, dare il mio contributo a questa squadra. Quasi 3.000 spettatori, non pochi ma neanche quelli che lei si ha aspettato. Quelli che avevano voglia di venire allo stadio, punto, se no inizia una querella che non finisce più, che dire, li ringrazio perché come sempre quelli ci hanno seguito, ci hanno seguito con grande passione, è un pubblico che merita di essere ricambiato con risultati importanti. Per il resto stiamo giocando un ottimo calcio, credo che debba servire anche questo per portare più gente allo stadio.